ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più ricostruttore di civiltà puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di revive prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store magic merchant dove trovate tante promozioni e offerte per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti e fra l'altro ringrazio magic merchant per avermi fornito il gioco per potervi fare questo video revive è un gioco da tavolo competitivo da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 90 120 minuti a partita edito dalla porta games in italiano grazie a genos games e infine gli autori li trovate in descrizione per quanto riguarda l'ambientazione dovremo cercare di far rivivere la nostra civiltà 5.000 anni dopo che tutto è stato distrutto dovremo esplorare le terre ghiacciate reclutare sopravvissuti nella superficie raccogliere risorse costruire fabbriche sviluppare tecnologie il tutto allo scopo di ripopolare antichi siti recuperare gli artefatti e quindi imparare dai nostri antenati e voi che dite riuscirete in tale arduo compito invece per quanto riguarda il genere abbiamo un erogame cui le meccaniche principali beh sono un po tutte quelle più conosciute i giocatori durante il loro turno potranno svolgere fino a due azioni oppure si dovranno invernare tra le varie azioni abbiamo giocare le carte queste potranno essere posizionate sugli slot inferiori o superiori attivando diversi benefici poi potremo esplorare le tessere ancora coperte così da ottenere i bonus ed espandere i territori e infine su questi territori potremo costruire edifici o posizionare la nostra popolazione in tutto ciò dovremo gestire le nostre tecnologie le risorse i macchinari i poteri delle varie tribù e la corsa per accapararsi gli artefatti più grandi ovvero quelli più importanti ovviamente alla fine della partita chi ha più punti vittoria vince ma come al solito non vi voglio anticipare troppo e vediamo il tutorial del gioco prepariamo una partita per due giocatori con le regole base per prima cosa posizioniamo il tabellone principale al centro del tavolo e poi mescoliamo coperte le cinque tessere iniziali che disponiamo casualmente scoperte sugli spazi segnati con una s poi ripetiamo la procedura con le restanti tessere area che però lasciamo coperte sugli appositi spazi del tabellone fatto questo mescoliamo le tessere luogo grandi ne scegliamo quattro e le posizioniamo con uno dei due lati a faccia in giù sugli spazi riservati del tabellone adesso che la mappa è completamente formata passiamo alle carte per prima cosa mescoliamo coperte tutte le carte seguace e poi ne peschiamo cinque che vengono lasciate scoperte vicino al mazzo fatto ciò prendiamo tutti i segnalini macchina li dividiamo in base al colore sul retro mescoliamo ogni pila separatamente e poi peschiamo tre segnalini da ognuna delle pile e li lasciamo scoperti adesso prendiamo tutti i segnalini modulo li mescoliamo coperti e subito ne riveliamo cinque una volta composta l'offerta prendiamo tutti i segnalini cassetta li mescoliamo coperti e li lasciamo vicino al tabellone poi sempre vicino al tabellone lasciamo i cubi azione e gli indicatori energia fatto questo prendiamo tutti i segnalini artefatto piccoli e li impiliamo sull'apposito spazio del tabellone e sopra questa pila mettiamo il segnalino con il valore 4 poi prendiamo tutti i segnalini artefatto grande li giriamo sul retro e alcuni di questi vengono rimossi dalla partita in base al numero dei giocatori poi li rimettiamo dall'altro lato e li posizioniamo su questi spazi del tabellone tranquilli che l'ordine non è importante fatto ciò ognuno dei partecipanti prende una plancia giocatore sceglie casualmente una plancia tribù che incastra immediatamente su questo spazio della propria plancia giocatore mi raccomando per il gioco base utilizzate le plancia tribù con il lato del sole poi ognuno dei partecipanti posiziona un'energia su questo spazio e posiziona gli indicatori di macchina sullo spazio 1 del tracciato dello stesso colore poi posiziona un segnalino interruttore su questo spazio gli indicatori delle risorse su ogni spazio con lo zero gli indicatori progresso su ognuno di questi spazi e i restanti indicatori vengono piazzati su questi spazi mettiamo anche la popolazione su questi e infine gli edifici grandi su questi spazi mentre gli edifici piccoli sui restanti superiori le ultime pedine che dobbiamo posizionare sono gli indicatori il primo indicatore viene piazzato sullo spazio iniziale del tracciato dei punti mentre il secondo viene messo sullo spazio iniziale del tracciato dell'hibernazione infine ad ognuno dei partecipanti viene data una carta riassuntiva insieme ad una carta artefatto che viene pescata casualmente le rimanenti vengono messe nella scatola di gioco mentre il proprietario della carta la tiene sempre coperta ai suoi avversari ma può controllare il suo contenuto in qualsiasi momento poi ognuno dei giocatori riceve un set di carte segnate con la stessa lettera che mescola subito e posiziona in un unico mazzo coperto su questo spazio poi da questo mazzetto prende tre carte e le posiziona immediatamente scoperte sotto la propria plancia tribù come ultimo passaggio della preparazione si determina casualmente il primo giocatore e costui riceve un cristallo mentre il secondo giocatore riceve un cristallo e un ingranaggio fatto questo è tutto pronto per iniziare una partita revive si divide in turni inizia il primo giocatore e si prosegue in senso orario il giocatore attivo durante il proprio turno deve effettuare una di queste scelte la prima svolgere fino a due azioni come indicato sul lato sinistro della carta riassuntiva oppure si iberna parliamo prima delle possibili azioni che il giocatore può svolgere e diciamo fin da subito che queste possono essere svolte nell'ordine che preferisce il giocatore e la stessa azione può essere ripetuta due volte se lo desidera un giocatore può ottenere traccia delle azioni che ha svolto utilizzando i cubetti azione semplicemente li posiziona sulla carta riassuntiva sull'azione che sta eseguendo all'inizio della partita è facile ricordarsi delle azioni mentre nelle fasi finali potrebbe diventare più difficile vediamo adesso tutte le azioni e partiamo dalla prima attivare l'interruttore il giocatore può svolgere quest'azione solo se l'interruttore si trova su questo spazio nel momento in cui decide di eseguire l'azione lo sposta nello spazio inferiore e quindi per adesso quest'azione è bloccata ma riceve immediatamente una risorsa a sua scelta l'unica risorsa che il giocatore non può ricevere è il cristallo e quindi può decidere tra ingranaggi libri oppure cibo vediamo adesso l'azione giocare una carta il giocatore sceglie una carta scoperta sotto la propria plancia tribù la prende in mano e la posiziona o su uno dei due slot inferiori oppure su uno dei due slot superiori oppure quando verrà sbloccato sullo slot laterale sì avete capito bene all'inizio della partita questo slot è bloccato e non si possono piazzare carte altra regola importante è che lo slot scelto deve essere libero ovvero senza carte con l'eccezione di alcune carte che presentano questa riga metallica questa riga indica proprio che si può giocare un'altra carta sotto di essa facciamo adesso qualche passo indietro e spieghiamo come posizionare le carte negli slot se la carta scelta viene posizionata su uno slot inferiore la dovremo posizionare in questo modo ovvero con la sola parte bassa visibile mentre per i due slot superiori facciamo esattamente il contrario questione differente per il quinto slot che sbloccheremo successivamente in questo caso potremo decidere l'orientamento della carta quando giochiamo una carta sulla nostra plancia non solo ne attiviamo gli effetti ma se il colore della carta corrisponde ai moduli attiviamo anche gli effetti di questi ad esempio in questo caso non si attiva il modulo poiché tra i suoi colori non è presente il verde mentre in questo caso si attivano tutti gli effetti di moduli e carte vengono ottenuti nell'ordine che preferisce il giocatore nel caso di una carta collegata ad un'altra l'effetto della precedente si attiva solo se il colore corrisponde a quella appena giocata vediamo adesso gli effetti comuni delle carte giocate queste carte forniscono le risorse indicate mentre in questo caso otteniamo il cristallo che segniamo immediatamente oppure possiamo convertire fino a tre risorse in altre risorse diverse se l'effetto è diviso da una barra dovremo decidere quale dei vari effetti applicare ad esempio questo simbolo ci fa ottenere un modulo che prendiamo immediatamente dall'offerta una volta preso il segnalino questo viene subito rimpinguato e il segnalino appena ottenuto deve essere subito installato su uno degli slot se lo posizioniamo su uno di questi spazi non accade nulla mentre se lo piazziamo sugli spazi con la spunta si attiva immediatamente se uno slot è già occupato da tutti i moduli possiamo scartarne uno e applicare il nuovo fate attenzione che purtroppo l'icona con la spunta non si riattiva attenzione se il giocatore lo desidera puoi installare un modulo anche sullo slot bloccato semplicemente sarà già pronto in futuro vediamo adesso quest'icona ovvero attivare l'abilità della propria tribù l'abilità è indicata nella parte inferiore della propria plancia tribù e se abbia un costo per attivare questa abilità deve essere pagato una volta pagato il costo e ottenuti benefici il giocatore prende un segnalino progresso e lo posiziona sullo spazio più in basso del tracciato del progresso e anche se sono finiti i segnalini progresso potremo continuare ad attivarla fermiamoci un attimo e parliamo dei segnalini progresso quando questi occupano uno spazio dove vi è un'icona accanto ai punti vittoria otteniamo immediatamente il beneficio segnato nel primo caso prendiamo un'energia dalla riserva e la posizioniamo su questo spazio tranquilli sull'energia torneremo successivamente mentre nel caso dell'icona artefatto prendiamo o uno di quelli grandi a nostra scelta e lo posizioniamo vicino alla nostra plancia mentre se tutti gli artefatti sono finiti prendiamo un segnalino artefatto piccolo che posizioniamo sempre vicino alla nostra plancia tranquilli che sui vari artefatti torneremo successivamente vediamo adesso l'avanzamento sui tracciati macchina se vi è questo simbolo indica che possiamo avanzare su un qualsiasi tracciato macchina mentre nel caso di un colore specifico come ad esempio questo grigio avanziamo su quel colore avanzare significa spostare il segnalino macchinario di uno spazio e se abbiamo raggiunto o superato uno slot macchinario togliamo il segnalino progresso piazzandolo come sempre su questa barra e poi sblocchiamo i benefici di quel macchinario un paio di note sullo sblocco dei macchinari alcuni di questi richiedono più segnalini che abbiano raggiunto superato gli spazi collegati e se il macchinario presenta un punto interrogativo prendiamo immediatamente un segnalino macchinario dello stesso colore rimpinguiamo lo spazio vuoto e posizioniamo il segnalino scelto sullo spazio appena sbloccato alcuni macchinari appena sbloccati si attivano immediatamente ad esempio questo fornisce un artefatto mentre altri come questo macchinario forniscono un punteggio aggiuntivo a fine partita invece per quanto riguarda tutti gli altri macchinari spiegheremo successivamente quando si possono attivare spiegato come giocare le carte e gli effetti più comuni passiamo adesso all'azione esplorare il giocatore attivo che sta effettuando questa azione sceglie una tessera coperta in tutta la mappa del gioco e deve pagare due costi diversi il primo è il costo della tessera ad esempio in questo caso paga due unità di cibo e due di libro e poi deve pagare la distanza spieghiamo subito tutte le regole che riguardano questo concetto il pagamento in distanza viene effettuato solo con unità di cibo e bisogna calcolare il punto di partenza all'inizio della partita questo esagono al centro della mappa e il punto di destinazione quindi in questo esempio la tessera che si vuole esplorare poi per ogni esagono che attraversiamo dobbiamo pagare un'unità di cibo attenzione il pagamento del cibo viene effettuato solo per gli esagoni attraversati e non per quelli di partenza e di destinazione ad esempio il giocatore blu vuole esplorare questa tessera e dunque di distanza deve pagare una sola unità di cibo poiché questo esagono è l'unico che viene attraversato escludendo quello da cui è partito e quello in cui è arrivato più avanti nel corso della partita posizioneremo elementi del nostro colore e una volta che abbiamo posizionato questi elementi non prenderemo più in considerazione lo spazio centrale sul tabellone di gioco ma uno degli elementi del nostro colore ad esempio in questo caso per calcolare la distanza potremo partire da uno dei nostri due edifici una volta che il giocatore ha pagato tutti i costi ottiene i benefici indicati sul retro della tessera che sta esplorando il primo indica dei punti vittoria che vengono ottenuti immediatamente e quindi fa avanzare immediatamente il proprio segnalino nel tracciato dei punti vittoria nota importante se i punti vittoria sono viola indica che questi vengono ottenuti solo alla fine della partita se il giocatore raggiunge o supera una casella con un bonus lo ottiene immediatamente ad esempio in questo riquadro con una cassa prende una cassa coperta dalla riserva generale e la posiziona sempre coperta sulla propria plancia tranquilli che anche sul funzionamento delle casse torneremo successivamente invece il secondo bonus fa riferimento a una carta da aggiungere il giocatore prende subito una carta tra quelle scoperte vicino al mazzo la rimpingo immediatamente e poi posiziona la carta appena presa vicino le altre carte attive quindi potremo già utilizzarla con la prossima azione una volta che il giocatore ha ottenuto tutti i bonus gira la tessera e la orienta come vuole vediamo adesso l'azione costruire un edificio con questa azione il giocatore può costruire un edificio piccolo oppure uno grande pagando il numero di ingranaggi richiesti facciamo che costruisce un piccolo pagando tre ingranaggi e poi deve subito piazzarlo su uno spazio di sabbia su una tessera scoperta del tabellone ovviamente come per l'esplorazione bisogna pagare la distanza e occhio che non si può mai tracciare un percorso passando sopra le tessere coperte e una volta che il giocatore ha pagato anche il costo della distanza posiziona il proprio edificio su quell'esagono su ogni spazio vi può essere al massimo un solo edificio quindi questo non è possibile e una volta che l'edificio è stato posizionato il giocatore riceve il bonus di tutti gli spazi circostanti il deserto non fornisce bonus mentre per questi simboli abbiamo già spiegato come funziona e poi ottiene i benefici dei laghi sappiate che un bonus di un lago può essere ottenuto al massimo una volta quindi se il giocatore blu ha posizionato questa casa e ottenuto il bonus del lago non potrà riottenerlo per il posizionamento di quest'altra casa però siccome è la prima volta potrà ottenere il bonus di quest'altro lago discorso differente invece per l'avanzamento sui tracciati che possono essere ottenuti anche più volte nota il funzionamento della casa è anche retrattivo e se successivamente esploriamo delle tessere circostanti otteniamo subito il bonus di quelle tessere gli edifici grandi funzionano esattamente come quelli piccoli ma con due eccezioni il primo è che bisogna pagare 5 ingranaggi invece di 3 e il secondo è che otteniamo due volte i bonus degli avanzamenti attenzione non dei laghi solo degli avanzamenti quindi in questo caso si avanza quattro volte sul tracciato grigio due volte sul giallo e due volte sul verde nota se un edificio è costruito adiacente a questo simbolo ottiene un cristallo oppure due vediamo infine l'ultima azione popolare per effettuare questa azione il giocatore controlla la propria plancia tribù e deve posizionare una pedina popolazione partendo dalla riga più in basso per posizionarla deve pagare i libri indicati in questo caso due e una volta che una pedina è stata posizionata sblocca le pedine della riga successiva seguendo i vari collegamenti la pedina popolazione può essere posizionata su questi spazi che vengono chiamati rovine oppure sulle tessere grandi si calcola e si paga come al solito il costo in distanza e poi si piazza la pedina pedine di diversi giocatori possono coesistere nello stesso spazio però massimo una pedina per giocatore e fra l'altro il nuovo arrivato oltre al costo della pedina deve pagare un libro ad ogni altro giocatore già presente su quello spazio la popolazione posizionata sulle tessere crea dei nuovi punti di partenza per calcolare le distanze insomma la stessa cosa che succede con gli edifici per quanto riguarda le tessere grandi queste faranno ottenere ad ogni giocatore che ha posizionato lì una pedina un punteggio aggiuntivo a fine partita nota proseguendo con il piazzamento di queste pedine potremo sbloccare il quinto slot della nostra plancia giocatore oppure eventuali macchinari aggiuntivi vediamo adesso le azioni gratuite del gioco e sappiate che queste possono essere svolte nel proprio turno quante volte si desidera e nell'ordine preferito dal giocatore attivo la prima azione gratuita è convertire un cristallo in una qualsiasi delle altre risorse un'altra azione è rivelare il contenuto di una cassa coperta così da ottenerne i benefici mi raccomando non scartate la cassa ma tenetela con voi e infine l'ultima azione gratuita è attivare un macchinario per poterla attivare questo non deve avere dell'energia su di sé e se quindi lo spazio è libero vi posizioniamo un'energia per attivare il suo effetto nel gioco esistono degli effetti che permettono di risbloccare un macchinario riposizionando l'energia al centro vediamo adesso ibernare ricordatevi che questa procedura la dovete effettuare se non potete o non volete fare almeno un'azione quando un giocatore si iberna per prima cosa prende tutte le carte coperte e le mette nell'area delle carte attive assieme alle altre poi tutte le carte piazzate sugli slot vengono tolte e vengono messe subito coperte su questo spazio nota potete visionare il contenuto di queste carte in qualsiasi momento e una volta fatto ciò rimettiamo tutta l'energia utilizzata sullo spazio iniziale e riposizioniamo la leva sullo spazio superiore infine come ultimo passaggio avanziamo di uno sul tracciato dell'hibernazione attenzione quando un giocatore arriva su questo spazio significa che deve scegliere uno degli artefatti sul tabellone e rimuoverlo dalla partita quindi non lo ottiene una volta che il giocatore si è ibernato o ha svolto fino a due azioni si conclude il suo turno e tocca al prossimo giocatore in senso orario la partita si conclude quando tutti gli artefatti sono stati presi e il giocatore che ha preso l'ultimo artefatto ottiene anche l'artefatto più piccolo che fornisce quattro punti vittoria a fine partita il giocatore che ha innescato la fine della partita non eseguirà più turni mentre tutti gli altri hanno un turno finale se questi giocatori dovessero ottenere degli artefatti prenderanno invece questi segnalini finita la partita si passa al calcolo dei punti innanzitutto la popolazione fornisce i punti vittoria delle tessere grandi su cui è presente a esempio in questo caso otteniamo due punti vittoria per ogni segnalino energia in nostro possesso e poi sempre la popolazione fornisce i punti vittoria di ogni spazio che abbiamo sbloccato e fatto questo calcoliamo i punti vittoria sul tracciato del progresso si prende in considerazione il numero più basso visibile e in questo caso il giocatore blu ha ottenuto 10 punti vittoria poi sono i giocatori che hanno sbloccato determinati macchinari ottengono i punti come specificato dal macchinario stesso si ottengono i punti dei segnalini artefatto piccoli e poi finalmente ogni giocatore rivela la propria carta artefatto questa di base fornisce dei punti vittoria ad esempio ogni popolazione sbloccata fornisce un punto vittoria ma questi punti vengono moltiplicati in aggiunta al numero di artefatti che il giocatore possiede quindi per il punteggio della popolazione non si moltiplica per uno ma per tre mi raccomando il colore di un artefatto fa riferimento a moltiplicare un punteggio specifico infine ogni cinque risorse e un punto vittoria e alla conclusione del conteggio chi ha più punti vittoria vince mi raccomando se nel calcolo finale passate su caselle con bonus ovviamente non li ottenete arriviamo infine alle mie impressioni su revive è davvero da tantissimo tempo che sento parlare di questo gioco e per vari motivi non sono mai riuscito a provarlo né in digitale e nemmeno alle fiere come ad esempio al play la cosa che più mi ha attirato è proprio il fatto che in tanti ne parlano come il miglior erogame di quest'anno se non addirittura come un capolavoro assoluto vi fermo subito qui vi dico che il gioco a me è piaciuto eppure tanto ma ancora una volta non riesco a vedere il capolavoro il motivo sta nel fatto che il gioco funziona davvero molto bene ma è la fiera delle meccaniche viste e riviste hanno piazzato praticamente di tutto tralasciando elementi originali innovativi o qualche twist vi dico la verità mi sarei aspettato almeno una meccanica con uno spunto un po più interessante particolare invece no recuperiamo meccaniche da tanti altri giochi e creiamo comunque un prodotto davvero ben fatto andiamo con ordine innanzitutto parliamo della componentistica a livello di quantità non si può dire nulla c'è davvero un sacco di roba mentre sulla qualità ci siamo non eccellente ma comunque va bene lo spazio che occupa sul tavolo è un po tanto nulla di così eccessivo eclatante ma comunque preparatevi e il regolamento l'ho trovato scritto piuttosto bene cosa che invece non ho apprezzato granché è il prezzo a cui viene venduto ovvero 80 euro e avrei preferito qualcosa sui 60 massimo 70 euro proprio esagerando preparatevi che i tempi di setup rispetto alla media sono piuttosto alti perché non solo dovremo preparare tutti gli elementi tra il tabellone principale e le riserve ma anche la nostra plancia personale fra l'altro aggiungendo le regole avanzate questo setup diventa ancora più lungo sul fronte dell'ambientazione sinceramente siamo sul classico poteva essere qualsiasi altra cosa però hanno fatto qualche sforzo sulla grafica e sui disegni cercando di dargli un'impronta o comunque una personalità peccato che poi la componentistica vada a rendere il gioco molto più astratto e freddo sulle meccaniche come detto prima tanta roba già vista ma funzionano bene il sistema delle carte da posizione sugli slot quindi impazziremo cercando di utilizzare l'effetto che meglio ottimizza le nostre mosse e poi usufruire delle varie azioni gratuite anche il piazzamento sulla mappa l'ho trovato davvero interessante col calcolo della distanza l'esplorazione delle tessere che ci fornisce nuove carte con poteri sempre più interessanti il posizionamento degli edifici che ci fa ottenere i bonus circostanti la popolazione che ci sblocca delle abilità dei bonus dei macchinari o comunque funziona insieme agli edifici come punto di partenza per calcolare la nuova distanza e poi ci sarebbero tante altre cosettine davvero simpatiche ad esempio i moduli che si riattivano con i colori associati gli slot sulle carte che permettono di giocarne altre e si possono creare quindi dei benefici degli effetti a cascata consiglio anche di giocarlo subito con tutte le regole avanzate quelle che si sbloccano nella campagna e infatti evitate di giocarvi la campagna partita per partita ma piazzate tutto fin da subito al massimo evitate il draft infatti per come la vedo io il gioco a livello di meccaniche risplende con le regole avanzate e va a sistemare alcune cose un po limitate con le regole di base su questo fronte il gioco è piuttosto classico bisogna ottimizzare scegliere la combinazione migliore sbloccare benefici effetti bonus il tutto come al solito per arrivare ad ottenere più punti vittoria l'interazione è quella classica in diretta degli euro game vado a fregare prima le carte oppure le posizioni migliori per gli edifici vado ad esplorare prima le tessere mi prendo i moduli e i macchinari migliori però se cercate un'interazione più diretta e distruttiva allora lì rimarrete delusi sulla longevità davvero tanta roba sia in fase di preparazione che si randomizzano alcuni elementi come esempio le tribù le tessere grandi che forniscono dei punteggi differenti le tessere da esplorare che vengono posizionate casualmente i moduli i macchinari il display delle carte tutto randomizzato ma poi abbiamo le regole avanzate che si aggiungono con la campagna e il lato luna delle varie plance tribù lì diventa tutto più interessante ma anche più difficile ci sono parecchie strategie diverse strade percorribili modi diversi di creare combo ottimizzare e infatti sul fronte della longevità hanno fatto un lavorone invece per quanto riguarda l'accessibilità non vi spaventate perché solo inizialmente un po dispersivo però a parte qualche eccezione è molto tranquillo a livello di regole sicuramente non lo consiglio a neofiti e avrei anche qualche riserva per i giocatori occasionali perché la prima partita essendo dispersiva è praticamente di rodaggio e per come la vedo io è uno di quei giochi che bisogna rigiocare per vederne il potenziale se masticate pesi medi o cinghialotti andate tranquilli e invece per quanto riguarda il fattore fortuna alcune cose vengono randomizzate come la pesca delle carte o dei moduli o ancora delle casse o dei macchinari ma è davvero poca cosa non vi preoccupate che il gioco è assolutamente controllabile forse un po di adattamento se si gioca con tanti giocatori e per quanto riguarda l'esperienza questa è un fattore piuttosto importante il giocatore che sa bene come muoversi conosce le regole le fazioni la struttura dei turni e l'avanzare della partita avrà un bel vantaggio rispetto ai novizi quindi occhio per quanto riguarda la scalabilità secondo me è buona ma non eccellente io non ho provato il solo però l'unica configurazione in cui lo sconsiglio è quattro giocatori ci sono sostanzialmente due problemi il primo i tempi morti specialmente se ci sono pensatori quindi persone affette da paralisi da analisi e poi la questione dell'adattamento potrebbe farsi sentire un po di più in tre giocatori è sicuramente il numero perfetto in due funziona comunque molto bene alcuni elementi vanno a scalare come esempio gli artefatti ciò significa che anche la durata della partita è proporzionata in base al numero dei giocatori e rimanendo sul fronte della durata sappiate che le prime partite con quattro giocatori due ore e mezza al massimo proprio se si va a lenti poi quando si conoscono le regole si va spediti un'ora e mezza massimo due ore quindi non velocissimo ma nemmeno una durata eccessiva infine per la dipendenza della lingua sappiate che il gioco è dipendente dalla lingua vi è del testo su alcune carte sulle plance tribù come anche altri elementi del gioco però la genus games l'ho localizzato in italiano insomma per come la vedo io revive è un gioco fatto dannatamente bene tutte le meccaniche amalgamate per quanto viste riviste l'unica cosa non riesca a vedere questo capolavoro perché non riesca a trovargli una sua impronta personale o comunque un twist quindi uno dei migliori giochi di quest'anno probabilmente sì uno dei migliori giochi di sempre probabilmente no detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate l'avete giocato vi è piaciuto il tutorial concordate con me con la recensione sì no forse commentate qua sotto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti